Benvenuti, buongiorno, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Mi perdonerete il ritardo nella trasmissione della diretta, ma vengo da un fine settimana da trottola, diciamo così, rimbalzante per i vari angoli di questo nostro meraviglioso paese e il tour O Capiamo o Moriamo mi ha portato a fare due iniziative, ecco Vittoria Polacci, la protagonista e organizzatrice, con Stefano Sigali dell'evento di Forte dei Marmi, sono stato anche ad Arezzo, sono rientrato ieri sera e ero un pochino stanco, mi sono svegliato tardi, questa è la ragione del ritardo di questa diretta. Saluto Mauro Chialastri, Mary Rossi, Alessandra Mondelli che dice come stai, raffreddore, sì un po' tutto insomma, le dirette hanno, quando faccio le date, in particolare se sono ravvicinate, voi dovete pensare che ogni data sta dentro una prova, richiamiamola vocale, saluto Gloria Gallarelli, Massimiliano Amato che sta bene visto che Gianfranco fa anche più date di me, la prova vocale vuol dire fare monologo per ore più la puntata di Stampevangelo e quindi dal punto di vista dell'emissione vocale paghiamo un po' di prezzo se sono molte le date ravvicinate, perché anche Stampevangelo è alla fine un monologo di un'ora, sommare tutto questo tipo di stress per le corde vocali, l'apparato respiratorio ha una qualche conseguenza anche perché il peso come dire non aiuta. A salutiamo Giuseppe Focore, Don Francesco Morcavallo, Mirco De Carli si riapre la settimana con la carica di Stampevangelo, eccoci qua, Rosa Eleonora degli Esposti, c'è Pippo Inbesi, c'è Luigi De Novellis, c'è Luisa, fatemi salutare Anna Bartorelli, andiamo subito alla lettura del Vangelo di oggi perché poi faremo una puntata piuttosto importante, diciamo tecnica per certi versi, dedicata al Rosatellum, sapete questa nuova possibile legge elettorale che essendo una legge elettorale riguarderà evidentemente in maniera importante il popolo e la famiglia e allora cerchiamo di capire quali sono i dettagli di questa legge elettorale di cui oggi leggerete sui giornali perché domani approda in aula alla camera, saluto Raffaella Zanchini, Andrea Cavenaghi, Massimiliano Musolino, Rosa Eleonora degli Esposti credo di averla già salutata, Corrado Salonia, il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, Nicola Ucello, Francesca Centofanti dal coordinamento elettorale giustamente dice maniche corte, eh sì, maniche corte, è all'aperto come sempre insomma. Saluto Silvia Diana, Manuela Miraglia, Corrado mi imbacchetta perché oggi sono in ritardo, in effetti sono in ritardo, ho provato a dare le motivazioni di questo ritardo di oggi, voi cercate però di far sì che la puntata sia ascoltata da più persone possibili, anche perché vi assicuro una spiegazione così in dettaglio, come ve la farò tra poco, della nuova legge elettorale Rosatellum non la troverete sui giornali, vi spiegherò alcune cose abbastanza importanti che riguardano in particolare gli interessi del popolo e della famiglia relativi a questa nuova normativa che ovviamente va conosciuta per quello che riguarda gli interessi del popolo e della famiglia che poiché è un partito politico che si presenta alle elezioni deve sapere come funziona la legge elettorale, è una nuova legge elettorale, ovviamente fatta a pochi mesi alle elezioni, ovviamente fatta in maniera cialtrona, ovviamente fatta da una classe dirigente che prova a salvarsi le poltrone aggiustando la normativa, insomma una legge imbroglio, una legge vergogna, potremmo cavare una porcata, però ha elementi di interesse e anche molto rilevanti per il popolo della famiglia. E allora partiamo con il vostro mi piace alla diretta, se potete fare un mi piace per far scattare meglio l'algoritmo di Facebook e con un condividi sulla vostra pagina, invitate anche i vostri amici a seguire la diretta di oggi di Stampa e Vangelo e nel frattempo partiamo con il Vangelo di oggi, il Vangelo del giorno, che è il Vangelo tratto, la pagina famosissima, Vangelo tratto dal Vangelo di Luca, i versetti, sono stavolta 13 versetti dal 25 al 37. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù, maestro che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, cosa sta scritto nella legge? Cosa vi leggi? Costui rispose, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quegli volendo giustificarsi disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù riprese, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi caricatolo sopra il suo giumento lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente strasse due lenari, ridieta l'albergatore dicendo, abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose, chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse, va e anche tu fa lo stesso. Questa è una splendida parabola del buon samaritano, nota universalmente, attenzione, sempre molto interessante leggere il Vangelo davvero. Il prossimo è il samaritano, chi è il prossimo? Chiede Gesù. È il samaritano, cioè nel prossimo vedo salvezza. Questa è la vera lezione, la parabola del buon samaritano, non quella della mera solidarietà, ma nella capacità di vedere nell'altro salvezza. Io trovo questo davvero un messaggio estremamente forte. Ama il prossimo tuo come te stesso, partendo da forte salvezza in sé, che è la salvezza in Cristo, puoi essere prossimo di chi è alieno da te. Il samaritano è alieno, è straniero per certi versi rispetto al viandante colpito che viene ignorato invece dal sacerdote, dalle vita. Trovo in tutto questo una lezione molto forte nella nostra necessità di essere saldi in noi stessi, cioè nella verità dell'incontro con Cristo e nel sapere essere prossimo di chi è veramente sofferente, veramente in condizione di difficoltà. E allora, buongiorno anche ad Elena Perduca, Augusto Caratelli, Danilo Leonardi, Vincenzo Dell'Albani, Erika Prandini. E allora, vi spiego che cos'è questo benedetto Rosatellum. Oggi lo trovate sui giornali perché impazzisce la polemica tra oppositori e proponenti. i proponenti sono Forza Italia, Partito Democratico e Alternativa Popolare, che è il partito di Alfano, col sostegno della Lega, d'accordo? Col sostegno della Lega. Questi sono i quattro partiti che hanno da guadagnare dal Rosatellum. Saluto anche Maria Cristina Tanzi che è arrivata insieme a Enzo Tarantino, è arrivato anche Stefano Sigali da Forte dei Marmi, un abbraccio forte a Stefano come l'ho dato prima a Vittoria, a Vladimiro Campello dal PDF Friuli, Bernarda Raucci, nostra splendida militante del PDF Roma, Anna Russo, Maria Felicetti, Maria Bellino. E allora, adesso ascoltatevi bene. Come funziona il Rosatellum? Il Rosatellum, a differenza dell'Italicum, non ha più tutti i seggi assegnati con la soglia proporzionale del 3%. Prima, su 630 seggi Camera, 345 seggi Senato, prendevi il 3%, superavi lo sbarramento e accedevi a una ripartizione puramente proporzionale dei seggi. Adesso, invece, un terzo di questi seggi viene assegnato con collegio uninominale maggioritario. Dunque, circa 240 seggi della Camera verrebbero assegnati in collegio uninominale maggioritario, all'interno di circoscrizioni elettorali molto ampie, che riducono di fatto il numero dei collegi da 100, che erano quelli dell'Italicum, a 65. Avremo 65 liste da presentare in altrettanti collegi Camera. Nei collegi Camera si eleggeranno un terzo dei seggi con il collegio uninominale maggioritario, due terzi con il proporzionale. arrivato anche Giovanni Fiori, candidato presidente del Popolo della Famiglia al Municipio Roma 10, che riduce da un fine settimana intenso di campagna elettorale sul territorio per far conoscere il Popolo della Famiglia e per far crescere i livelli di consenso al nostro movimento. Sappiate che il 5 novembre si vota al Municipio Roma 10. Nell'ultimo fine settimana abbiamo fatto una serie di iniziative sul territorio per far conoscere il nostro simbolo e il nostro candidato presidente. Possiamo fare molto di più, dobbiamo fare molto di più e ci impegneremo a farlo ovviamente da oggi in poi, sempre per il lavoro che dobbiamo fare per far conoscere Giovanni Fiori e il simbolo ai 250.000 abitanti del Municipio Roma 10, 14esima città italiana per numero di popolazione. Francesca Patuzzi, bellissima e donna, va nella concretezza e chiede, in sostanza per noi è meglio o peggio? Allora, per noi in sostanza Francesca è meglio, perché è meglio? Saluto anche Don Francesco Colamonaco che è arrivato insieme a Alberto Livieri. È meglio intanto perché ci si sono improvvisamente, miracolosamente ridotte di un terzo le firme da raccogliere. Prima dovevamo raccogliere 1500 firme su 100 collegi, chi sa fare un attimo di conto, capisce immediatamente che bisognava raccogliere 150.000 firme, uno sforzo molto importante. Per via di un emendamento presentato dai fittiani, pensate un po', in aula, anzi no in aula, in commissione, sperando che però questa legge poi affronti l'aula della Camera, la commissione del Senato e l'aula del Senato, restando così inalterata. Quindi quello che vi dico oggi vale oggi rispetto al testo emerso dalla commissione affari costituzionali della Camera. Deve ancora esserci l'analisi del testo in aula, l'analisi del testo in commissione Senato, l'analisi del testo e il voto definitivo in aula Senato. Se l'aula Senato modifica qualcosa del testo della Camera, il testo deve ritornare alla Camera e dunque i tempi si fanno molto stretti. Quello che vi sto dicendo vale per il testo emerso dalla commissione affari costituzionali e che da domani va in discussione in aula. Allora, l'emendimento dei fittiani per noi è molto importante, cosa ha fatto? Ha ridotto da 1.500 a 750 le firme da raccogliere. Inoltre, poiché l'impianto generale della legge riduce da 100 a 65 i collegi, quello che noi dobbiamo raccogliere non è più 1.500 per 100 collegi, cioè 150.000 firme, ma 750 per 65 collegi, 50.000 firme. Quindi lo sforzo diventa matematico, cioè noi 50.000 firme ce le beviamo sul territorio nazionale. In un territorio appunto come la città di Ostia abbiamo fatto 525 firme in tre giorni. Quindi potete capire che sparso tutto questo sforzo sul territorio nazionale, questo è l'elemento sicuramente fondamentale che agevola il nostro lavoro. Un altro emendamento alla norma permette, altra novità importantissima per noi, la convalida delle firme non più solo ai cancellieri e agli eletti del territorio, ma anche agli avvocati cassazionisti. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare proprio da oggi, prima concreta operazione da compiere per i nostri interessi, è cercare nel nostro territorio degli avvocati cassazionisti che siano nostri amici. Appunto, Francesca Patuzzi dice avvero abbiamo fatto 700 firme in due giorni, quindi come capite il tendrino delle firme diventa risolutivo. Allora, questa cosa ci agevola sicuramente in maniera importante. Luigi De Novellis dice come firmare e poi vi porteremo i moduli e come sapete il centro nazionale si occupa di tutto questo. Federico Pieroni dice che per accogliere le firme ci vuole qualcuno che monitori, ci vuole uno che certifica le firme e quelli che possono certificare le firme sono gli avvocati cassazionisti tipo Massimiliano Fiorin che è arrivato, ne abbiamo a pacchi, benissimo, grazie Massimiliano di questa tranquillità. Abbiamo sicuramente già degli eletti, noi abbiamo anche 16 eletti sul territorio, Massimiliano Amato ci conferma, giuristi per la vita su tutto il territorio nazionale già allertati, dunque questa è sicuramente una importante novità che agevola il lavoro del popolo e della famiglia. Intelligentemente qualcuno ha detto che questo agevola anche i cattivi, i cattivi, cioè i nostri avversari sono in realtà iper agevolati perché la legge prevede che per tutti i gruppi parlamentari non c'è necessità di raccogliere le firme, le firme le dobbiamo raccogliere noi piccolini del popolo e della famiglia ma Partito Democratico, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia si sono fatti una bella legge in cui hanno scritto che loro le firme non le devono raccogliere, quindi come capite lo sforzo in realtà è solo sulle nostre spalle. Per fortuna si sono un po' abbattute le difficoltà, almeno ripeto con il testo emerso dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera che domani va in discussione in aula alla Camera. Sul piano degli interessi per il popolo e la famiglia altri elementi, Marco Fasulo chiede oltre agli avvocati castazionisti di chi? Gli eletti del territorio possono certificare le firme e anche i cancellieri del Tribunale, questi sono i soggetti che possono certificare le firme oltre ovviamente ai notai che però hanno tendenzialmente un costo diciamo così. Notai, avvocati castazionisti, eletti del territorio e i cancellieri del Tribunale, questi sono i soggetti legittimati a certificare le firme. Passiamo al passaggio successivo, ricordando sempre che i gruppi parlamentari non raccolgono le firme, quindi si presentano automaticamente. Speriamo di avere il gruppo parlamentare eletto alle prossime elezioni così anche noi potremo saltare il passaggio delle firme. Cosa cambia sul piano politico? Federico Pironi chiede giudici pure? No, i giudici non possono certificare. Sul piano politico, noi un milione di voti dobbiamo prendere sul simbolo e un milione di voti dobbiamo prendere sul simbolo con Rosatello, non si scappa. Luigi Renovelli schiede la sede di Napoli. Per Napoli devi prendere contatto con Giuseppe Focone che trovi anche qui sulla diretta di oggi. Prendi contatto qui su Facebook, Giuseppe Focone e ti metti in contatto col PDF di Napoli. Saluto Mauro Turrini, Evergheno, Francesco Sanna. Allora, una volta raccolte le 50.000 firme saremmo presenti sui 65 collegi che sono diventati 65 da 100 del territorio nazionale e ci presenteremo alle elezioni. Ci presenteremo in maniera autonoma, inevitabilmente. Quindi presenteremo un nostro candidato al collegio nominale e presenteremo la nostra lista proporzionale per la parte proporzionale. Noi un milione di voti sul simbolo dobbiamo prendere, un milione di voti sul simbolo prenderemo. Quello che questa legge costringe a fare, per certi versi, è aggregare delle cosiddette coalizioni in ologramma. Cosa faranno? Faranno sostanzialmente delle vastissime coalizioni, in particolare al centro-destra, in cui ci saranno una serie di liste, infinite liste animalisti, pensionati, liste che poi verranno chiamate liste civetta, anche se impropriamente, che punteranno a allargare di molto il livello di consenso sommando 05, 08, 01 e facendo così in modo di poter vincere i collegi uninominali. La mia opinione, ma questo verrà discusso poi politicamente dall'Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia, che convocheremo appena la legge sarà definitivamente approvata, quando la legge diventerà legge e quindi avremo tutti gli elementi, verrà convocata un'Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia per valutare politicamente gli effetti. Noi siamo un mondo che vota, che approva le linee politiche votando, un mondo completamente democratico, tutti gli iscritti, chi si iscrive al Popolo della Famiglia e alla testa del Popolo della Famiglia viene in Assemblea Nazionale e vota sulle indicazioni politiche rispetto alle prossime elezioni. La mia opinione personale, ve lo dico con chiarezza, è che noi dobbiamo andare in autonomia perché intrupparci dentro una enorme coalizione con Lupi, la Brambilla, con i pensionati, con gli amici d'Alfano, con Forza Italia, diventa una attrupparsi completamente devastante per la forza del Popolo della Famiglia, che non riuscirebbe a distinguersi da quelle venti liste con cui si aggregherà Berlusconi e in questo modo perderebbe la forza che ha nella sua proposta alternativa, che è un'alternativa alla destra e alla sinistra, oltre che un'alternativa alla palingenesi grillina avaloriale. Quindi la mia proposta è che sulla scheda si troveranno le coalizioni ologramma del centro-destra e del centro-sinistra, si troverà l'opzione grillina, si troverà probabilmente qualcosa a sinistra del PD e qualcosa alla destra della destra, ma poi ci sarà il Popolo della Famiglia come opzione. Vedo, leggo molti che dico andiamo assolutamente da soli, Lorenzo Damiano, Danilo Leonardi, Federico Pieroni, Alessandra Mondelli, la mia opinione è che noi dobbiamo andare da soli e chiedere un milione di voti agli italiani e come dice Nicola Di Matteo, il nostro coordinatore nazionale, almeno un milione di voti, perché io credo che la nostra forza possa essere andare anche molto al di là del milione di voti. Dovremo superare, quindi col milione di voti, lo sbarramento del 3%, superando questo sbarramento sia alla Camera che al Senato avremo accesso alla ripartizione dei seggi e almeno una ventina di parlamentari, se superiamo il 3%, almeno una ventina di parlamentari li porteremo in Camera e Senato. Questa è la novità, è arrivato anche Ottavio Deludio che ha Vincenzo Deludio, suo fratello e Violetta e la famiglia, i figli che vivono a Ostia, quindi caro Ottavio ti saluto e ti do il buongiorno a patto che fai subito una mobilitazione su Vincenzone e su Violetta affinché votino Popolo e la famiglia Ostia il 5 novembre e Giovanni Fiori Presidente. Ecco Francesca Centofanti, anche lei di Ostia, ricordo a tutti che noi abbiamo adesso un appuntamento fondamentale per vedere anche qual è il livello di consenso che abbiamo e come sempre ci misuriamo autonomamente da tutti i partiti e da tutte le coalizioni a Ostia. Vediamo lì quanto consenso riusciamo a raccogliere in un sistema di voto di tipo maggioritario. Massifiano Fiorini mi pare che mi chiede se ci chiederanno di entrare in coalizione, ovviamente ce lo chiederanno, ci saranno le pressioni fortissime per portarci dentro la coalizione perché figuriamoci se sfanno comodo gli animalisti con lo 0,8 e i pensionati con lo 0,5 e le varie liste civetta con lo 0,3, figuriamoci noi che abbiamo un consenso che comunque è già misurato oltre il 2%, ma per noi la linea deve essere quella di andare assolutamente da soli, credo, come dice Lorenzo Damiano, cercando di intercettare i 5 milioni di italiani che sono stati vicini al Family Day e dunque potrebbero votare per il popolo e la famiglia. Intercettare vuol dire non riuscire a pagare appena di tutte i 5 milioni, ma un segmento importante sì. Giovanni Barbero mi chiede di eliminare un commento, ragazzi, non mi fate domande, sto in diretta, secondo voi adesso io posso andare a eliminare il commento con tanto affetto, cercare di capire i momenti quando si può e quando non si può. Lo dico anche ai tanti, siete tutti estremamente carini, gentili, mi scrivete in privato, io qualche volta non ce la faccio a rispondere a tutti, siete molte migliaia, dovete capire questo, e umanamente è diventato difficile rispondere a tutte le mail, tutti i messaggi privati, tutti i messaggi di messenger, io cerco di stare dietro, qualche volta non ci riesco, abbiate un po' di pietà per una vita che è molto intensa, vi assicuro. Ottavio De Lugia ha appena installato un defibrillatore in un ospedale, bravissimo, mandagli un messaggio a tuo fratello, a Vincenzo, via Facebook, senza devi fare niente, mi raccomando a Ostia di votare il popolo della famiglia. Susanne Demetz dice se vi equalizzate non vi voto, non è il nostro interesse, però lo dico subito, queste determinazioni politiche saranno prese dagli iscritti del popolo della famiglia che voteranno all'Assemblea nazionale che convocheremo subito dopo il varo definitivo della legge elettorale, che dovrebbe arrivare entro l'anno, quindi ai primi di gennaio, tornati dalle vacanze di Natale, noi convocheremo l'Assemblea nazionale che determinerà questa decisione politica. Ovviamente se volete sapere la mia opinione, sono anni che dico solo questo, noi dobbiamo andare da soli e prendere i voti che sono lì i nostri ad aspettare in autonomia, come stiamo facendo anche a Ostia per l'ennesima volta nel nostro territorio qui di Roma, perché noi siamo nati per questo e su questo dobbiamo crescere. Federico Fieroni dice iniziamo a lavorare sulle firme, sulle firme si potrà lavorare solo quando avremo la data delle elezioni. Angelo Bottone dice vincere un collegio maggioritario sarà più difficile, no? Esattamente, noi non vinceremo nei collegi maggioritari, questo dobbiamo averlo chiaro, non stando in coalizione non potremo vincere i collegi maggioritari. Il nostro obiettivo però è superare il 3% e portare con questo, superando il 3% matematicamente, perché la matematica non è un'opinione, l'elezione di 20 parlamentari tra Camera e Senato sicuramente eletti in Parlamento. Se lo superiamo, poiché 945 sono gli eletti complessivi di Camera e Senato, di cui due terzi si eleggono col proporzionale, il 3% dei due terzi di 945 fa 20 parlamentari, perché tra l'altro vengono escluse tutte le liste che vanno sotto il 3%. Alcuni chiedono se dovessimo equalizzarci quali sarebbero i vantaggi? Non vedo vantaggi, ovviamente la tematica del voto utile potrebbe scattare in un sistema in cui ci sono i collegi non i nominali, noi l'abbiamo già affrontata presentandoci da soli alle amministrative, perché alle amministrative ci hanno sempre detto che bisogna votare i grandi raggruppamenti per andare al ballottaggio, però pensate all'esperienza di Verona, una delle più illuminanti da questo punto di vista, a Verona stando lontani, nonostante la fortissima pressione subita per candidarsi con il centrodestra, la proposta alternativa del popolo e della famiglia ha già ottenuto il 3,5%, il 3,5% è il risultato che ci permetterebbe ampiamente di eleggere i parlamentari sul proporzionale. Il fatto di aver creato un terzo dei collegi con maggiorità ci toglie una decina di potenziali parlamentari, questo è l'aspetto negativo che Stefano Cardini evidenzi evidentemente, se era tutto proporzionale ne leggevamo 30, con la riduzione di un terzo del proporzionale ne leggiamo 20, questo è l'elemento, il danno che subiamo con il Rosatellum, che è costruito ovviamente per favorire i proponenti, che sono forzità che legano una parte, PD e Alfagnani dall'altra, quindi questa è la situazione, il danno che subiamo è perdere 10 potenziali eletti, il vantaggio che otteniamo è raccogliere 50.000 firme invece di 150.000, io chiedo che alla fine bilancio costi, benefici, tutto sommato a noi questa legge conviene quasi. Saluto Fabrizio Di Costanzo, saluto Luigi De Novellis, Anna Ciappa, benvenuti a tutti i cattolici che vorranno votare PDF, ma solo così, Monica Vitali, pochi ma buoni, poi pochi vediamo, perché magari invece del 3 facciamo il 6 ragazzi, ne leggiamo 40, non diamo limiti, io sono convinto che il popolo della famiglia o supera molto agevolmente il 3% e quindi fa molto più del 3% o resta ampiamente sotto, questa è la forchetta, è difficile ci posizioneremo proprio sulla lama del coltello, quindi chissà che non andiamo ai picchi di Riolo col 14%, magari saremo la grande sorpresa delle elezioni, non mettiamo limiti a ciò che può fare la provvidenza di Dio, davvero questo ve lo chiedo, noi abbiamo bisogno di essere sempre uomini e donne di fede, uomini e donne di fede. Anna Russo dice i cattolici hanno il dovere di aprire gli occhi, vivono nel mondo, ma è ora che si sveglino, Monica Vitali, ovviamente si va per vincere Stefano Gardini, ci faremo un milione e mezzo di voti per riavere i nostri parlamentari, i nostri 30 parlamentari eletti, certo, ma perché non 2, 2 milioni sarebbero un numero assolutamente adeguato al livello di potenziale consenso del popolo della famiglia. Marco Pennetti dice ci si potrebbe qualizzare solo sui collegi maggioritari? No, non è previsto voto disgiunto, o sei nella coalizione o sei da solo, non c'è possibilità di fare una operazione disgiunta, la legge elettorale è stata scritta per tendere a far qualizzare tutte le liste e a far nascere liste appositamente, per questo sono a bassi livelli di firme appositamente costruite per far aumentare i livelli di consenso delle coalizioni. Questo è il tipo di proposta che nel Rosatellum Mirco De Cali dice facciamo in Italia quello che abbiamo fatto a Riolo, un miracolo, esattamente, 14%, che ci vuole ragazzi? Lì dietro l'angolo non è che non si fa, l'abbiamo fatto anche a coito, abbiamo fatto l'undici ad avola, vediamo insomma qual è il tipo di risposta. Don Francesco Colamonaco che è sacerdote dice i preti soprattutto devono svegliarsi, che bello sarebbe avere sul territorio mille sacerdoti che ci danno la stessa carica che ci dà Don Francesco. Cominciano ad esserci, perché ho visto anche in queste date che ho fatto ad Arezzo e a Forte dei Marmi la presenza di religiosi, religiosi e sacerdoti alle nostre iniziative in maniera molto più intensa rispetto al passato. Come dice Nicola Auccello citando San Giovanni Paolo II, damose da fa senza ombra di dubbio. Giacomo Cangi intanto titola questa folle notizia del censimento in Gran Bretagna dove non bisogna più mettere per non offendere chissà chi l'orientamento, cioè il sesso biologico che abbiamo, nello censimento non voglio più sapere quanti sono i maschi e le femmine, pensate un po', per non offendere i transi neutri, non ho capito più ormai, davvero non ci si capisce più niente. Saluto Massimiliano Starace, Don Francesco è votato da Federico Pieroni, c'è Luca Cipriani, Giorgio Adelfio, per la Sicilia puoi dire qualcosa, siccome la Sicilia ha un sbarramento al 5% noi in Sicilia non ci siamo presentati perché non riesce a spiegare soldi, energie, fatica, quando il 5% è oggettivamente uno sbarramento troppo alto per le nostre forze di oggi. Quindi sostanzialmente, poiché poi la Sicilia ha un caravan serraglio, diciamoci la verità, queste elezioni sono qualcosa di estremamente poco simpatico da tanti punti di vista, abbiamo preferito non essere presenti, anche se alcuni candidati vicini al popolo della famiglia sono presenti in varie liste e si possono sostenere volendo e conoscendoli da Domenico Messina nei siciliani liberi a altri amici che sono candidati in varie liste sul territorio. Massimiliano Fiorindice, qualcuno pensa di sostituire gli alfaniani col popolo della famiglia per ricostruire i cattolici del centro-destra, ma siamo già in un'altra era, esattamente, siamo in un'altra era. Bartolomeo Notarangio dice se il sale perde il sapore non serve ad altro per essere calpestato dagli uomini, cari cattolici non vi rendete conto che abbiamo perso il sapore e ci stanno calpestando, appunto io penso che dentro una coalizione che conterrebbe inevitabilmente personaggi che hanno votato a favore delle unioni civili, la legge civili è stata votata da molti parlamentari di Forza Italia, è stata votata ovviamente da tutto il partito di Alfano e di Maurizio Lupi, all'approvazione di Stefano Parisi, noi con questi non ci possiamo confondere, a me pare evidente che il popolo della famiglia è un'alternativa a queste coalizioni arcobaleno, perché sono tutte coalizioni arcobaleno, inevitabilmente, in cui si confondono i sostenitori dei principi essenziali con quelli che li hanno di fatto affossati in Parlamento e noi non possiamo evidentemente esserci in questa formula, noi saremo assolutamente da soli, ma ovviamente questo passerà attraverso il voto dell'Assemblea nazionale, ripeto, convocata appena la legge elettorale sarà definitiva e dunque sapremo con quale regole dovremo scendere in campo e in quale campo da gioco, non do consigli per le regionali siciliane, io do solo un solo consiglio, ormai da due anni si vota popolo della famiglia, dove non trovate il simbolo del popolo della famiglia per me è totalmente rilevante, fate quello che ritenete, l'unico che mi interessa da due anni a questa parte sul piano politico è rafforzare il voto al popolo della famiglia, allora il 5 novembre chi ha amici alle amministrative cerchi gli amici sul territorio di Ostia, Roma 10, municipio Roma 10, Ostia, Ciglia, Casal Palocco, Infernetto, Malafede, Castelporziano, 250 mila abitanti, la 14esima città italiana per popolazione, faccia votare popolo della famiglia, faccia votare Giovanni Fiori, presidente del popolo della famiglia, presidente del municipio come candidato del popolo della famiglia. Saluto Anna Ciappa, saluto anche Cecilia Maria Biancarelli, Nicola Di Matteo dice dobbiamo fare squadra e crescere in Sicilia, chiunque è interessato a collaborare e mi contattassi in privato, mi invi una mail a nicolaroma.com. Per l'attività siciliana il nostro delegato del centro nazionale è il coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, dunque contattatelo, tutti i siciliani che volessero mettersi in contatto, il rapporto è con nicolaroma.com. Ricordo che ci si può tesserare e solo gli iscritti hanno diritto al voto il giorno dell'Assemblea nazionale al popolo della famiglia, ci si tesserà attraverso anche il marketplace della croce www.lacroce.it.it slash abbonarsi trattino ora dove trovate sia la possibilità di abbonarvi alla croce che di comprare o capiamo moriamo voglio da mamma, ma anche di fare la possibilità di fare la tessera del popolo della famiglia. Contano solo gli iscritti, ovviamente si candidano le elezioni solo gli iscritti, votano sulle decisioni politiche solo gli iscritti del popolo della famiglia, ovviamente. Federico Pieroni dice ma la fede, infernetto, che brutti nomi, ci vogliono davvero dei bei fiori per rinascere, esattamente. Per il 13, il PDF fa qualcosa, che cos'è questo 13 lanciato lì? Non capisco. Chiede Giampiero Bonfanti, se il riferimento è alle iniziative per fatti, ma abbiamo sì una serie di iniziative a cui aderiamo, ma non facciamo direttamente noi, però non ho capito benissimo il riferimento alle cose ai 100 anni di fatti, ma è stato per fatti, ma noi aderiamo a iniziative fatte sul territorio da altri soggetti. Saluto anche con l'occasione Natalina Minuz. Oggi la bella notizia, visto che la cita Natalina il Rosario della Polonia, la bella notizia è che il Rosario, questa meravigliosa iniziativa del milione di persone sui confini nazionali che hanno recitato il Rosario, è sbarcato in prima pagina su Repubblica. C'è stato un silenzio mostruoso per certi versi dei media su questa bellissima notizia, telegiornali non ne hanno dato notizia, però oggi su prima pagina su Repubblica trovate, ovviamente con il solito attacco, la solita tonalità anticristiana e anticattolica, la fotonotizia a tutta pagina del Rosario detto dagli amici polacchi, anche noi il 13 alle 16.30, come i fratelli polacchi reciteremo il Rosario il 13 aderendo a iniziative territoriali tra le 16.30 e le 17.30 del 13 di maggio e dunque sicuramente ci saremo ovviamente, sottolineando che per fortuna, persino l'iniziativa polacca è riuscita ad arrivare all'attenzione dei nostri quotidiani, Repubblica in particolare, anche se con accenti come al solito, anticristiani. Saluto Maria Cristina Rampiconi, saluto Maria Grazia Volpato, ecco il profilo di Emanuela Pongiluppi Leuteri, che è un'altra che è entrata nel campo dei bannati, le hanno bloccato il profilo e quindi oggi deve lavorare tramite il profilo ELAEMA Uppiele, ELAEMA Uppiele, vedete quel profilo è il profilo di emergenza di Emanuela Pongiluppi Eleuteri e la EMA Uppiele. Alessandro Margiotta dice, prendiamo esempio dal popolo polacco, Maria Grazia Trudu, le cose belle non vengono divulgate, Massimiliano Musolino, nel proporzionale le circoscrizioni sono regionali o provinciali? Le circoscrizioni elettorali sono regionali, ma le circoscrizioni in realtà sono solo un elemento amministrativo, quello che contano sono i collegi, i collegi sono 65, non più 100, all'interno di questi collegi si eleggono su collegi uninominali Camera 240 parlamentari circa, sulle liste proporzionali 390 deputati, d'accordo? Quindi la circoscrizione è quella regionale, ma non conta perché è solo un elemento amministrativo della gestione, quello che conta sono i collegi, 65 collegi complessivi Camera che poi hanno all'interno dei collegi uninominali e dei collegi proporzionali dove si presentano le varie liste, micro liste da 2-4 persone. Spero così di avervi illustrato nella maniera più chiara possibile gli effetti del Rosatellum sulla nostra vita, diciamo così. Ora penso e posso lasciarvi alla riflessione, anche perché ho completamente esaurito la voce, quindi perdonatemi, giorni e giorni di comizi e di iniziative e di turdi o capiamo o moriamo. A proposito, sabato ci vediamo con Costanza Miliano, Maurizio Botta, Marco Scicchitano, alle ore 11 al Teatro Sala Umberto di Roma. Teatro Sala Umberto, ci vediamo alla presentazione di O capiamo o moriamo nel ritorno per un solo giorno, sabato 14 ottobre, sullo stesso palcoscenico dei quattro moschettieri che con le loro iniziative contro i falsi miti di progresso chiedono un avvio a tante cose che poi sono avvenute. Mi raccomando, sabato 14 ottobre, ore 11.30, cioè sabato prossimo, al Teatro Sala Umberto di Roma, via della Mercedes 50, venite numerosi perché sarà un avvenimento indimenticabile, davvero indimenticabile. solo per un giorno tornano insieme i quattro moschettieri. Ninnarello è arrivato subito a scrivere ci vediamo sabato, mettete la data col circoletto rosso, sarà un evento davvero indimenticabile. Padre Maurizio Botta, Costanza Miliano, Marco Scicchitano e il sottoscritto per un giorno tutti insieme. E allora non ci sarà diretta Facebook, è relativa proprio a chi ci sarà. Come dice Giovanni Fiori è importante esserci con il proprio corpo. È un regalo fatto a chi sarà in quel giorno, in quello straordinario luogo del 1882, pensate che sarà un teatro storico della capitale, 150 anni e ci saremo noi a occupare quello che di solito è un teatro occupato da iniziative di tutt'altro colore politico. Per una volta insomma sarà il popolo e la famiglia a essere presente in questo territorio così particolare della cultura italiana. Teatro Sala Umberto, tantissimi posti per tutti quelli che vorranno partecipare, dalle 11 si può entrare al teatro Sala Umberto. Conviene arrivare alle 11 perché poi potrebbe saltare qualche... speriamo di fare il tutto esaurito, la galleria sarà aperta fino all'ultimo, però cercheremo di far entrare e far accedere tutti i partecipanti. Da Maria di Nolfi una buona giornata a tutti, grazie per la partecipazione a questa diretta, ci troviamo domani sempre pochi minuti dopo le 8 per Stampevangelo con la PDF TV. Da Maria di Nolfi una buona giornata.